Le uscite e quindi è quello che viene chiamato, mentre invece nella sezione della mente comune è un po' più popolare, l'allecchino. L'allecchino è un assalato, è quello la più, però noi da, e io sono un amante dei pubblici, abbiamo il famoso stupidu che ci sponsorizza, ci sono i blu, ci sono i neri, se ci facciamo un giro, questo è il soggetto più grande, i favoriti campioni, questo è il paralucidale. Buongiorno, saluti, buongiorno, a voi è un cucciolone, e potete portare il comante. Senti, diciamolo chiaramente al nostro pubblico che questo è un animale che non è necessita che sia sottoposto a taglio di orecchia, taglio di coda, assolutamente non si toglie, non si tocca nulla, queste manomissioni sono avbellate. un'estrema social attività sono tutti pizzi sono tutti colorati e noi sono tutti colorati e noi sono tutti curati e noi sono tutti sono tutti guarda quanto sono belle e come sono grandi abbiamo un totale di iscritti e 81 soggetti noi solitamente facciamo pure anche qua qui per l'isola Sometina prima del covid abbiamo fatto 147 iscritti 3 animali 3 animali ecco qua il famoso soggetto blu salano blu la lana blu abbiamo uno splendido di 4 mesi alle sue prime avventure magnifico che comincia a socializzare con i signori buongiorno caluti ben trovati buongiorno buongiorno da dove venite voi per partecipare a questa gara? Verona la settimana prossima saremo a Verona per i cavalli fiera cavalli esatto comincia per l'evento voi partecipate? beh no ancora no grazie guarda Carlo dolce che tiene picciolone così grande è così tenero hanno gli occhi così dolci così teneri vero? si merita un primo piano l'evento 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 è la settimana l'evento 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 è l'evento